ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video vi spiegherò come risolvere al meglio le impostazioni grafiche su fortnite non è che andremo su fortnite e cambieremo così le modifiche e impostazioni grafiche dall'alto metti in basso si attivi le ombre e le luci su fortnite diciamo che non è che risolvi tanto quindi in questo caso in descrizione vi ho lasciato un link che vi porterà sulla pagina per scaricare questo pacchetto che questo pacchetto consiste attendo in questo pacchetto ci sono un bel po' di cosucce tante tante cosucce che vi permetteranno di modificare le impostazioni grafiche come queste qua quindi se avete problemi raccomando state attenti a questa parte se avete problemi con il link vi consiglio di entrare nel server discord vi farò accedere a un canale basta che chiedete a me vi farò accedere a un canale per prendere il pacchetto oppure direttamente il link mediafire cercate sopra quel link mediafire e vi porterà sulla pagina per scaricare fortnite fps pack questo qua una volta scaricato ragazzi è una cosa di pochi minuti non ci vuole molto quindi io adesso chiudo tutte queste schede e vi farò vedere questo è il pacchetto RAR mi raccomando estraete questo pacchetto RAR exact to fortnite con winrar io l'ho detto quindi scaricatevi winrar per estrarre questo pacchetto questa è la cartella che vi uscirà la cartella c'ha un bel po' di altre cartelle quindi come potete vedere qui ci sono tutte le impostazioni grafiche da mettere su fortnite grafica molto molto lenta molto molto bassa non lenta molto bassa bassa media e alta quindi visto che voi dovete boostare gli fps su fortnite andremo nella cartella very low end pc questa qua clicchi su game user settings o facciamo copia fino a giù oppure copiamo direttamente questo file e lo mettiamo nella cartella di fortnite ma io vi consiglio di fare così controllare copio tutto faccio copia ora andiamo un attimo su tasto windows più R si aprirà così esegui oppure lo cerchi qua esegui e scrivo percento local app data percento e faccio ok una volta fatto andremo su fortnite game questa è la cartella saved config windows client andate su game user settings questi sono tutti i file che bisogna sostituire quindi faccio di nuovo ctrl a e poi faccio ctrl v e li ho copiati tutti copiato e ingollato ho preso quel file e li ho messi qua dentro ora chiudo questa cartella basta che faccio salva salva si sostituiamo il file ok il file è solo lettura quindi io adesso faccio così faccio un attimo annulla io dovrei fare prima di fare questa modifica non facciamo non salvare niente vado un attimo su mostro altra posizione proprietà solo lettura io tolgo solo lettura faccio applica ok è solo lettura quindi noi non possiamo modificarlo ma se togliete quella spunta possiamo modificare il file quindi come ho detto sempre quei file sempre quei numeri che ho copiato prima li incolliamo qui sopra ok quindi come potete vedere retracing shadows quality è attivato ma che ci serve il retracing delle ombre quindi faccio CTRL A CTRL V voilà ok ho copiato così le impostazioni queste sono faccio un attimo salva chiudo tutto chiudo pure qua adesso vi spiego altre cose su questo ho sbagliato ecco questa carta di fortnite box ok noi adesso abbiamo messo questo settaggio nel documento di fortnite ok nel documento di fortnite ora torniamo un attimo indietro su batch in ottimizzazione qui ragazzi possiamo fare veramente un sacco di cose io adesso non lo faccio però come potete vedere qui cancellerà tutti i file temporane quindi i file immondizia del nostro sistema operativo quindi vi consiglio di farlo così eliminerà i file temporanei io visto che non mi fido tanto di cancellare perché sinceramente alcuni cmd alcuni prompt dei comandi non cancellano tutti i file completamente per questo uso un'applicazione che cancella tutti i file temporanei bleach bit scaricatevi l'applicazione bleach bit che fate cioè fate proprio una vera e propria pulizia questo invece se lo premete vi cancellerà solamente un paio di cosucce non proprio tutte poi questo sempre cancellerà dei log files e poi farà una pulizia del dns dei cache quindi riguardo alla connessione questo è per la connessione fatele fatele tutte e tre fatele tutte e tre per questo invece se non vi fidate di questo vi consiglio l'applicazione bleach bit bleach bit si chiama poi andiamo un attimo su windows ottimizzazione questo qua sono le voci di registrazione che vanno messe nel sistema operativo quindi che significa significa che io una volta cliccato per esempio vediamo un po' disabilito ecco background app quindi tutte le applicazioni in background io ho disabilito questo l'ho aggiunto nel registro faccio sì chiave di contenuti e faccio ok tutto qua cioè mi disabilita così le applicazioni in background ok e le ho tolte perfetto alla fine solo le cose più importanti erano questa qua della modifica qui manca la cartella numero 3 però da quello che hanno da quello che ho capito i file sono solamente questi solo questo quindi a noi ci interessa di più la grafica molto bassa grafica bassa grafica media grafica alta se invece avete un buon pc e volete ottimizzare al meglio fortnite proprio vederlo benissimo usate quest'altro sistema come ho detto fate una bella copia in col andate nella local app data quindi tasto windows pr non capisco perché non si salva il quello che ho scritto prima quindi local app data per cento faccio ok vediamo un po' dove sta fortnite game eccolo qua fortnite game save config windows client eccolo qua e lo mettiamo qui io adesso apro un attimo fortnite apro un attimo fortnite per vedere quelle impostazioni grafiche della grafica bassa quindi della grafica bassa perché l'ho messo nel documento file guardate un po' guardi i documenti ok e apro fortnite ok ecco fortnite connessione in corso un attimo si avvia ok ovviamente fortnite si vede così piccolo si piccolo adesso mi basta andare un attimo su impostazioni un attimo su impostazioni impostazioni questo qua e vediamo un attimo su schermo intero 80 schermo intero questa è l'interfaccia del gioco questo è per aumentare un po' gli fps ed eccoli qua questo è ok ok sicuramente io se adesso avvio una partita faccio un attimo giochiamo non so quanti fps farò comunque ragazzi come ho detto quella è la cartella molto molto bassa la grafica ok se non vi piace proprio come modificatela quindi come ho detto prendete tutti quei file nome documenti fate un copia e poi incollateli in quel gamer user settings ok quindi il pacchetto è vostro quindi smanettateci un po' sopra modificate cambiate il file e fate quello che volete tanto finché in un finché nel senso finché non esce la esce proprio l'interfaccia giusta che vi piace a voi ok quindi ovviamente io lo sto vedendo veramente una merda Fortnite anche se ho delle buone prestazioni sul gioco più di 100 fps li faccio senza problemi con grafica alta se mettessi almeno ultra e disattivassi anche le ombre e le luci farei intorno agli 80 90 fps perché le ombre meno non mi servono 230 fps già queste sono le impostazioni grafica colpa mia non so 700 148 59 per ritornare alle impostazioni normale ragazzi come ho detto come ho detto usate quel settaggio della grafica alta inseritelo in quel documento ok oppure se provo un attimo a fare su impostazioni impostazioni tolgo un attimo setter banner perché mi sta oscurando tutto ok proprio tutto chiudi chiudiamo tutto ok vediamo questa grafica in modalità di rendering mettiamo prestazione direct x11 vc 190x1080 schermo intero allora lo so perché così applica conferma ahhh così un po' meglio 1920x1080 16 90 nuova applica ok e torniamo ai nostri impostazioni eccole qua tutto ridotto impostazioni questo invece per combattimento che non ci servono da quello che ho capito ragazzi che queste sono le impostazioni grafiche ovviamente quel documento ha rimosso un paio di impostazioni vedo solamente questo grafica avanzata mostrata fps adesso metto 60% ed ecco fortnite e ragazzi faccio 200 più di 200 fps li sto facendo sì più di 200 fps li sto facendo quindi che vi posso dire di più grazie per questo video ragazzi questo video vi è stato utilissimo io vi consiglio di lasciare un like iscrivervi al canale di fare una campanina ragazzi di non perdervi altri tutorial come queste se volete un tutorial su un altro gioco per aumentare fps come boostarli chiedete pure ho fatto altri tutorial su Call of Duty Wars sono sempre su Fortnite Apex Legends ne sto facendo molti altri quindi quindi ah negli spari c'è un calo di fps nella casa 220 230 fps ho fatto qua la porta vedo un po' il cielo con me 200 fps vado la terra 220 240 60 c'è uno che mi spara cazzo vuole questo ma cazzo vuole questo che sto facendo un benchmark per favore non rompermi i coglioni e scappa scappa scappano come godardi non lo so e due e il combattimento è molto alto va bene quindi ho detto grazie a dubbio questa visione ragazzi e noi ci vediamo ad un prossimo tutorial ciao ciao